Prende consistenza la stagione dell'ex privia Molfetta in attesa che rientrino i nazionali Sabbi, Saitta e Mazzone impegnati negli europei, mentre si è aggregato al gruppo il giovane Rizzo, bronzo mondiale con la Juniores e Conchichello ancora assente giustificato ma attento osservatori a distanza del lavoro sul campo del Molfetta perché impegnato con la nazionale iraniana nelle qualificazioni alla Coppa Asiatica. A dare consistenza ad un precampionato lungo, la stagione comincia il 13 ottobre con la trasferta macerata, ci sono le amichevoli utili per assaggiare preparazione e schemi di un gruppo rinnovato per il 90%. Il successo sull'Ortona ha già chiarito che l'es privia ha imboccato la strada giusta, le due amichevoli in terra calabrese, mercoledì e giovedì contro il Vibo Valencia, che sarà avversario nella prossima Serie 1, alzano l'asticella delle difficoltà e soprattutto consentiranno un primo assaggio di campionato che l'es privia affronta da neopromossa ma con la giusta dose di ambizione. La settimana si chiuderà al Palapoli con una terza amichevole in programma sabato contro Avellino, avversario storico quando Molfetta ha giocato in Serie 2. E sarà proprio Avellino la sede di un quadrangolare dove l'ex privia si misurerà contro il solito Vibo Valencia e la Latina, oltre agli irpini padroni di casa, alla fine del mese. Da inizio ottobre tornerà anche Cichello a sovrintendere il lavoro dello staff tecnico e si darà una accelerata alla preparazione, avvicinandosi l'esordio del campionato. Accelerata che invece non c'è stata per i lavori di adeguamento del Palapoli. Resta aperta la strada che porterebbe l'ex privia ad emigrare al Palaflorio di Bari, anche se sul tavolo c'è una seconda opzione che avvicinerebbe la formazione al territorio con un trasferimento nella vicina Giovinazzo. Ma l'ultima parola aspetterà alla Lega pallavolo.